Allora, questo video è dedicato per alcuni iscritti o forse non iscritti al mio canale e mi riferisco a tutti quegli uomini che fanno commenti volgari e idioti sotto i video. Il fatto che io parli di argomenti che possono avere uno sfondo sessuale non significa che voi dobbiate fare i caffoni maleducati e tirar fuori la bestia animale che è in voi. Quindi questo canale è dedicato a tutte quelle persone che vogliono parlare, ascoltare tematiche riguardo l'amore, il sesso, i sentimenti, la seduzione ma con educazione. Quindi qui lo dico, qui lo confermo e non lo ridirò più perché passerò ai fatti. Tutti coloro che commenteranno in modo volgare verranno bloccati e i commenti rimossi. Qui vi voglio bene ma sappiate che nel mio canale esigo pulizia e cortesia. Va bene? Sono stata chiara? Quindi iscrivetevi al canale, mettete un like, attivate la campanella e fate i bravi. Altrimenti kaput! Ciao, a presto!